Vai! Un saluto! Dica Maracanà! E' qui l'architetto Verulatis Maracanà Allora, ci faccio vedere queste cabine che lei ha immesso La prossima cabina la faremo su quell'esalotto Dove? La, proprio là La? C'è il progetto approvato da parte della comunale? Serve soltanto la cabina Ed ecco, Margaritoni! E' un ruolo timido Ha ingaggiato Cristiano Ronaldo Ha ingaggiato Cristiano Ronaldo per il Corigliano Per il Corigliano Gattuso è molto felice da questa scena Poi Renato e Tonino Con Domenico Toni e Renato Toni e Renato E' Renato e il suo compagno Tonino e il suo compagno E niente, siamo qua, cosa dire? E' bellissimo Sono senza parole Francia, fatti, inquadrati Protona Ecco, quella cosa che guardate è quello che si chiama mare Quello si chiama mare Quello si chiama mare Non so se lo conosciete Quello è una cosa che si chiama mare Però non è il nostro mare Però non è il nostro mare E' un mare tirreno E' un mare tirreno Non è buono E' un mare tirreno E' proprio buono che riflette ecco il felino riguardiamo il felino il felino ad affalire la saprella ecco lo che sta la sua strategia gira il torino aspetta il momento più adatto per attaccare ecco il felino ce la puoi fare si avvicina alla preda ecco va cacà cosa prende? è una fila però ecco che ritorna ecco che ritorna sembra il noco il bambino che ha un cazzo enorme bambino super dotato figlio di noco si freddi e chiudiamo qui e chiudiamo questo cosa diciamo architetto e chiudiamo questo cosa diciamo ci vediamo la prossima puntata venga 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 cosa diciamo? la prossima puntata ci troviamo sul video di guardate che lo andate guardate saluta a Matteo Altomondo saluta a Matteo Altomondo saluta a Altomondo saluta a Altomondo e la c'è come dicevo c'è la l'abbazia è bella come potete vedere questa fatta di tempestate di pietra preziosa diciamo no? si e poi ci vediamo prossimamente sul canale Ging ciao ringraziamo il nostro sponsor onoranze funebri the 5 vuoi che il prossimo viaggio sia sereno e allegro tra l'ilarità generale station wagon mercedes colore nero station wagon mercedes colore nero o argento 2004 GTD un Mercedes GTD non l'abbiamo mai visto basta chiedere è il tuo viaggio è la tua vacanza l'onoranze funebri di circo non ci fa senta deciso ma provongo una cosa l'avete già fatta voi che caldo ci siamo fatto a sei bordello penso proprio di sei chiudiamo qui il collegamento e da scale è tutto non ci siamo fatta la prima di non ci siamo fatta è tutto non ci si è tutto è tutto